buonasera buonasera benvenuti alla grande rubrica onda azzurra di telecapri saluto tutto lo staff buonasera cinzia e saluti tifusi napoletani oggi ho indossato una maglia azzurra l'azzurro che domina nel cielo del san paolo del maradona e nel cielo di napoli con un grande gioco brillante ovviamente un napoli riorganizzato bene a spalletti dove si vede la freschezza di zinischi l'incisività di lozzano osimen sbaglia alcuni gol già fatti già si esultava in tribuna un po impreciso osimen speriamo di migliorare come ha detto il nostro amico bellucci ex del napoli oggi vogliamo parlare un po di calcio mercato le ultime notizie parlano di un navas quasi pronto per vestire la maglia da titolare del napoli dovrebbe essere il portiere che dovrebbe dare quella personalità alla difesa che spera che vuole spalletti meretta la finestra per altre possibilità il napoli cerca la cilegine sulla torta dopo otto colpi di mercato per riprogettare una squadra che ha perso grandi calciatori come insegne mertens e culibali nonostante i suoi errori in premier league che ci fanno pensare all'ingenuità ad altro il napoli molto concentrato ha previsto una bella amichevole con i cugini gli amici di castellammare con la juve stabbia ci sarà sicuramente un grande pubblico agevolazioni per i tifosi e con con la tessera e andremo allo stadio a vedere questo napoli nuovo con raspadori dombele con gli altri che dovranno fare minutaggio e credo che spalletti proverà la squadra contro che dovrà giocare contro la fiorentina a firenze già non sono nate per firenze sono già nate le prime polemiche pochi biglietti 1200 biglietti disponibili molti tifosi rimarranno fuori nonostante l'organizzazione c'è chi aveva già noleggiato i furgoni per andare a firenze e un po di lamenti di sempre solita storia il settore ospite è limitato ma andiamo alla parte tecnica la parte tecnica è importante perché abbiamo visto napoli brillanti due partite qualcuno dice che le squadre erano scarsi il verona poco organizzato il munza poco incisivo ma nessuno ha visto la l'armonia la bellezza la concentrazione dei calciatori un mario lui sempre in mezzo al campo brillante un kim che sembra un orologio svizzero ha anche segnato un bellissimo gol racmani molto aggressivo un di lorenzo molto più forte nella personalità nella sicurezza di gestire la palla e anche un buon pressing al centrocampo e che vogliamo dire centrocampo l'orologio svizzero e lo bottega ma abbiamo visto anche un anguissa pronto a corso di gioco nel momento in cui viene pressato e lo bottega che aveva di fronte a lui un brutto cliente come sensi e l'attacco l'attacco con uno zaro completamente diverso rispetto alle partite e fatte con gli altri allenatori e uno simen sempre impetuoso ma che dovrà poi integrarsi bene con il calciatore del momento il calcio del momento è cavara tutti quanti sono per cavara ci sono anche questi paragoni assurdi con insigne per il famoso di raggiro ma cavara ha dimostrato di poter essere di poter essere l'uomo in più per l'intuizione per i gol che ha fatto per i dribbling per